I nostri messaggi Moa Concept rappresenta un movimento emozionale e estetico. Abbiamo valutato il talento di persone e la diversità per l'unificazione dell'arte. Crediamo nell'inclusione, il cambiamento occorre quando le idee si incontrano. La missione di Moa Concept è di unire le persone di diversi paesi e culture a messaggi e linguaggi universi. La diversità, la cultura e l'arte sono un progetto positivo per una emancipazione sociale.